e poi basta aprire un po', dovete andare in verticale, non in orizzontale, in verticale dovete andare, oh questo è giusto, vai giù, tocchi i capelli, di nuovo, questo è buono, questo è buono, capelli, cambio, coraggio, altri due, chi riesce a mettere Don Quixote nella bolla! Ma com'è contento il Don Quixote! Bello, bello! Se è stato impaziente alla fine, se la riusciamo a tutti, poi guardate la pennezza di questa cosa, un ato, un metro e 55, vai, vai, cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta, ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa, e così da giorni a...